ciao ciao ragazzi siamo andati a caldarola oggi provata la rocky mountain altitude a 50 con delle modifiche quindi formula selva s davanti ammortizzatore di hx2 dietro cerchi mavic ed max pro 1300 metri di dislivello con gazzeggi vari provata in eco provata spenta provata in tutti i modi batteria ancora al 40% quindi molto soddisfacente miglior telaio veramente che c'è su dei bike maneggiovolezza impressionante veramente non si avverte molto nella batteria posto splendido giornata spettacolare secondo il mio punto di vista rocky mountain è la mia bici per l'utilizzo non si avvicina Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.